Ok, Chudansky, Kotegeishi, ma molto piccoli stanzi. Una distanza molto corta. Quando abbiamo attacco, abbiamo molti possibilità. Ma in generale abbiamo questa parte. Queste tecniche. Ancora possiamo trovare... Ma ora mi piace. Molto corto. E per lavorare. Questa mattina, e l'aventura, un attacco di showman. Questa mattina... ... è stato un lavoro che abbiamo fatto questa mattina. ... per vedere... ... per l'attacco. Non quello, non per l'attacco. Non quello, non per l'attacco. Ho cercato di... ... spiegare qualcosa. Questa è la prima volta. ... per l'attacco. Io il aiutare a venire. Sì. 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 Ok, scelta. Chiede parte. È molto, molto, molto difficile. C'è più che io sono con lui, più con lui, più più forte. Più sentire cosa succede. Se raffredde, si raffredde... Ok, io sono contro. Ok. Ok. Cercate di considerare questo lavoro come se fosse un esercizio. È facile perché... ... non vediamo cosa succede. È facile perché non sappiamo cosa succede. So? Easy. Ok. 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 E ora? Cambi. Ok. Qua... Questo è il limite, ok? Non rifiuto la mia azione Non è contro di me È contro di me C'è che devi essere assieme alla mia azione Ma anche di più E con la mia intenzione Non è solo sul polso Non contro il partner ma assieme al partner Ok, cambiare i partner Due minuti